Proprio mentre va online questo video Samsung sta ufficialmente lanciando i suoi nuovi pieghevoli ovvero Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 due prodotti che non stravolgono il paradigma rispetto ai modelli dello scorso anno ma che comunque portano alcune interessanti novità specialmente lato software io ho avuto l'occasione di tenerli in mano e giochicchiarci qualche giorno fa e quindi ora in questa anteprima vi parlo proprio di cosa è cambiato Partiamo da Galaxy Fold 6 che è quello tra i due che è cambiato di più dal punto di vista estetico non tanto per il design che è comunque molto simile a quello dello scorso anno fatta eccezione per degli angoli un pochino meno arrotondati quanto nelle dimensioni e nel formato dei due display rispetto a Fold 5 infatti entrambi i display sono un pochino più squadrati una differenza che si nota in particolare con il pannello esterno che passa da 6,3 a 6,2 pollici ma guadagna a mio modo di vedere in usabilità grazie a un rapporto di forma di 22 noni contro i 23,1 noni del modello precedente il pannello interno resta invece da 7,6 pollici con una risoluzione di 2160x1856 pixel entrambi hanno poi un refresh rate di 120 Hz e sono di tipo Dynamic AMOLED 2x non ci sono grosse novità nemmeno per quello che riguarda i valori di luminanza massima e in generale sono entrambi i pannelli che offrono un'esperienza visiva assolutamente appagante la piega invece beh per quel poco tempo che ho potuto passare con Fold 6 non mi sembra sia cambiata né in meglio né in peggio insomma c'è in alcune occasioni con un determinato tipo di luce incidente si vede ma secondo me non dà fastidio queste differenti proporzioni per il display portano poi a delle misure leggermente diverse Fold 6 da aperto è 2,7 mm più largo ma 1,4 mm più basso oltre ad essere più leggero di circa 14 grammi che non è moltissimo ma è comunque un miglioramento rispetto a Fold 5 ovviamente a livello di ingombro queste differenze non sono così impattanti ma nell'utilizzo il four factor più squadrato del display esterno porta secondo me un'usabilità migliorata tutto questo non incide poi sulle certificazioni di resistenza tanto che Fold 6 resta certificato IPX8 e restando in tema di design e ergonomia manca ancora purtroppo un alloggiamento per la S Pen il cui trasporto quindi è ancora relegato unicamente a eventuali accessori come cover o simili molto belle invece le colorazioni secondo me Fold 6 sarà disponibile in tre varianti di colore blu, grigio e rosa tutte e tre opache e abbinate a una cerniera in alluminio satinato dello stesso colore tre colorazioni secondo me molto azzeccate spostandoci dentro allo smartphone cambia il processore che si evolve e passa a uno Snapdragon 8 generazione 3 4 Galaxy ottimizzato quindi nelle frequenze dei core rispetto allo standard e già presente all'interno degli S24 in questa edizione di Fold è stata però ingrandita la camera di vapore destinata alla dissipazione e questo garantisce un raffreddamento più efficace e prestazioni che conseguentemente dovrebbero essere generalmente migliori rispetto alla concorrenza che monta la stessa piattaforma 12 sono poi GB di RAM con uno storage di 256, 512 GB oppure 1 TB a seconda della versione scelta parlando invece di autonomia siamo di fronte a un modulo da 4400 mAh uguale allo scorso anno che dovrebbe garantire quindi prestazioni simili o al massimo leggermente migliori dovute appunto a un chipset più ottimizzato nessuna novità invece per quello che riguarda le fotocamere il trittico di ottiche e sensore rimane praticamente lo stesso dello scorso anno con una principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e tutto quello che serve una ultra wide da 12 e una lente tele con ingrandimento ottico 3x e sensore da 10 megapixel le fotocamere frontali sono invece da 10 megapixel quella esterna e 4 megapixel quella interna che rimane nascosta sotto al display ma anche per questo lancio come per quello di S24 all'inizio di quest'anno il focus di Samsung è sull'intelligenza artificiale e in particolare sull'integrazione di quest'ultima all'interno della propria One UI e a questo proposito dobbiamo dare merito secondo me a Samsung perché dal lancio di S24 tanti altri produttori hanno costellato di AI i propri lanci ma nessuno lo ha fatto in una maniera così integrata e con una concretezza come quella di Samsung tante delle funzioni disponibili sono quelle già viste inizialmente sugli S24 e poi arrivate con gli aggiornamenti software anche su Fold e Flip di quinta generazione ma alcune di queste funzioni sono state ottimizzate per sfruttare al meglio il doppio display dei dispositivi pieghevoli la funzione interprete ad esempio che consente di trascrivere e tradurre istantaneamente una conversazione offre ora la possibilità di visualizzare le frasi tradotte contemporaneamente sul display esterno come su quello interno i due interlocutori quindi potranno ora con un solo smartphone vedere le frasi tradotte nelle rispettive lingue restando diciamo ai lati opposti del dispositivo ma non solo la funzione di trascrizione e riorganizzazione delle note sfruttando la dimensione del pannello interno di Galaxy Fold può ora mostrare nella stessa schermata in due finestre affiancate il testo integrale della nota e la sua versione riassunta potendo agire quindi con modifiche sia dall'una che dall'altra parte contemporaneamente anche la componente generativa è stata ampliata e ulteriormente migliorata sfruttando la S Pen e le nostre doti grafiche possiamo ora utilizzare lo strumento Sketch to Image per generare immagini che utilizzano i nostri schizzi come fossero dei prompt uno strumento che funziona sia per generare foto a sé stanti sia invece per inserire oggetti all'interno di foto o altre immagini già esistenti sempre parlando di intelligenza artificiale generativa e immagini sono molto carine anche le funzioni che permettono di migliorare un ritratto o di convertirlo in un disegno stile cartoon o ancora in un bozzetto a china o in un personaggio 3D di un fil di animazione tutte operazioni che vengono svolte in cloud al contrario delle funzioni di trascrizione e traduzione che avvengono invece in locale a patto che ovviamente abbiate scaricato preventivamente i vari pacchetti di lingue novità o meno che si aggiungono a tutta quella che è l'AI di Google che continua la sua stretta collaborazione con Samsung e quindi ecco che ritroviamo ancora il cerchio e cerca ma anche l'accesso rapido alle funzioni di traduzione di Google Lens bene tutte queste funzioni fatte eccezione per quelle che richiedono ovviamente le dimensioni generose dello schermo interno di Fold le troviamo poi anche su Z Flip 6 che rispetto a Fold secondo me cambia ancora meno a livello estetico sempre ovviamente se lo paragoniamo al suo predecessore le differenze più marcate sono infatti da ricercarsi nei bordi del telefono che sono ancora più piatti, netti e spigolosi e nel cerchietto colorato abbinato al colore della scocca che in qualche modo evidenzia quelle che sono le fotocamere ma pur mantenendo un design fondamentalmente identico al predecessore cambiano leggermente le dimensioni da chiuso merito di una cerniera ulteriormente migliorata che consente di portare lo spessore a 14,9 mm contro i 15,1 di Flip 6 ovviamente si parla di prodotto chiuso anche qui nulla che porti reali vantaggi nell'uso quotidiano ma comunque bene che Samsung continui a lavorare anche per questi aspetti nonostante un design ormai consolidato e sempre in tema di costruzione resta la certificazione IP48 quindi piccola novità rispetto allo scorso anno quando Flip 5 era solo IPX8 quindi non testato contro le infiltrazioni di polvere o piccoli oggetti parlando invece di display troviamo un pannello interno Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz sostanzialmente lo stesso pannello dello scorso anno la buona notizia rispetto al display esterno invece è legata al numero dei widget disponibili che è aumentato e ci permetterà ora di interagire dal display esterno con un numero maggiore di applicazioni e quindi in un numero maggiore di situazioni cambia poi leggermente anche il comparto foto in particolare mi riferisco alla risoluzione della fotocamera principale che passa a 50 megapixel ed è affiancata da una classica ultrawide da 12 megapixel la fotocamera principale ha stabilizzazione ottica e l'app photo quando sfruttiamo il pannello esterno per regolare l'inquadratura sfrutta ora l'intelligenza artificiale per regolare in automatico lo zoom e il crop dell'immagine in modo da provare a mantenere sempre il soggetto centrato nell'inquadratura all'interno la fotocamera per i selfie rimane invece ancora da 10 megapixel mentre passando alla piattaforma anche qui abbiamo lo snapdragon 8 generazione 3 for galaxy e rimangono anche i 12 giga di ram per i tagli di memoria invece rispetto al fold ci si ferma due opzioni 256 o 512 gigabyte la buona notizia arriva invece dalla batteria con una capacità che sale a 4000 mAh e una conseguente autonomia che dovrebbe essere quindi migliorata rispetto alla precedente generazione purtroppo invece non ci sono novità dal punto di vista della ricarica che rimane a 25 watt cablata e fino a 15 wireless esattamente come per il fold 6 bene ma quindi quanto costano questi nuovi pieghevoli samsung partendo da z fold 6 posso dirvi che la versione a 256 giga avrà un prezzo di listino di 2099 euro che sale a 2199 per la 512 e 2459 per il modello da 1 tera flip 6 invece parte da 1279 e sale a 1399 per la versione da 512 giga sono prezzi leggermente più alti rispetto allo scorso anno a parità di tagli di memoria ma vi invito a dare un'occhiata agli articoli sul sito dove trovate anche tutto il dettaglio delle promo che vi consentono quindi di abbassare come sempre anche di un bel po' le cifre di ingresso bene cosa ne pensate di questi nuovi galaxy z fall 6 e flip 6 fatemelo sapere qui sotto nei commenti ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate le notifiche ciao